Noi siamo alla farmacia Indemini di Benevagenna, una piccola farmacia rurale della provincia di Cuneo, adesso siamo nel 2021, l'anno in cui abbiamo acquistato il nostro primo robot della Gollman, che adesso vedete in fase lavorativa, nel momento in cui stiamo caricando l'ordine che è appena arrivato. Abbiamo scelto questo robot per la sua compattezza, per la velocità e per la capacità di sfruttare molto lo spazio rispetto ad altri robot che avevamo valutato invece a Tunnel, quindi c'è una bella differenza in questo senso, infatti ci permette di avere una silvania su cui poter lavorare per riuscire a fare il back office e tutti i vari problemi che la farmacia di oggi ovviamente comporta. La farmacia è una farmacia a protezione familiare, siamo io e mia sorella, è stata un'installazione che abbiamo valutato insieme a Mauro Venturello che ci ha consigliato molto bene e in circa meno di una settimana siamo riusciti a installare senza dover fare nessun tipo di lavoro di muratura utilizzando lo spazio che avevamo, lo spazio che è stato utilizzato in maniera molto interessante in cui riusciamo a sfruttare ampiamente tutte le potenzialità del robot. Il robot che è alto 2,30 metri per una larghezza di 2,20 metri e 3,40 metri di lunghezza che è stato fatto su misura anche perché avevamo un problema di altezza con le volte quindi le misure sono state fatte ad hoc per noi. Sì, la grande qualità di Dolman è poterlo fare su misura, sulle dimensioni che sono adatte all'autofarmacia quindi in qualsiasi spazio uno si possa, voglia e voglia installarlo. Con questo macchinario siamo riusciti a migliorare molto i tempi per le ricette perché non dobbiamo più cercare magari giocenze sbagliate oppure la medicina è ancora da riorganizzare in magazzino. È molto comodo perché una volta che sono inserite anche solo nel studio automatico le prese, le memorizza subito e quindi sono già subito disponibili per la vendita. Abbiamo deciso di installare anche il caricatore automatico, per noi è stata una priorità per risparmiare molto tempo. Basta semplicemente scaricare i pezzi nella tramoggia e lui automaticamente andrà a scaricare. La modalità della costruzione del robot è l'all-in-one che abbiamo sia l'automatico che è il serie automatico. Funziona molto velocemente, molto preciso, scansiona le confezioni, riuscite a individuare la densa, la lunghezza, la profondità e la scadenza naturalmente in maniera automatica e va a posizionarli negli scaffali delle librerie mobili. Grazie all'automazione siamo riusciti a dedicare molto più tempo ad altri servizi, quindi all'autoanalisi, dei consigli alla clientela. Il fatto di non allontanarsi qui dal banco ci permette di seguirli molto meglio e di non perdere tempo, di avere sempre le licenze con un controllo assolutamente molto preciso. Goalman dà un'assistenza continua 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di problema, quindi non abbiamo mai avuto problemi che non si siano risolti nella giornata o di pochissimo tempo. Il robot funziona veramente molto bene, abituarsi è molto facile e gli permette veramente di aumentare le aree di vita anche dell'azienda, quello assolutamente. Sicuramente noi non torneremo mai dietro, cioè è una scelta che ci fa sicuramente migliorare molto come azienda e come farmacia. Grazie. 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 Grazie.